io voglio sapere perché fate entrare il signor achille va bene signor achille per cortesia noi stiamo facendo il programma già avuto l'interruzione del di conti carlo come sono fesco tamati quando senta mondo è malato il mondo è malato per coppa di chi 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 due merda signor achille allora cosa vuole lei ci vuole insegnare come catturare gli animali allora ci dica qual è l'animale da catturare sta settimana poi va via va bene ma siamo amici si si allora quanta settimana il topolino caldo topolino un topolino sempre nelle trappole soffrono va bene e allora giustamente vediamo di allora è semplice mi raccomando allora guarda è semplicissimo si prende si va in un bosco ti fa uno piazzo intera ancora si poi si prende una mela e si mette vicino alla tanna del topolino si vede una mela c'è anche te due e da una parte si prende dunque due mele da una parte e da un'altra parte una fetta di formaggio e una lametta nel mezzo una lametta una lametta e gioci poi che si fa ci si racconti dire su un ceppugno lo supponeva il topolino arriva e fa esce dalla tana piano piano cappauda eh arriva e fa si schiaccia e fa cosa mangio prima la mela o formaggio la mela o formaggio fa così e si taglia la testa questo è veramente ma questo è veramente veramente troppo crudele è crudele è crudele allora si questa si leva a crudele si leva e si leva anche la mela e formaggio bene che simile che si lascia la lametta e vabbè come fa e topolino cosa fa esce si dì a paura se e fa o questa o un c'è da una mela da questa parte o un c'è da pomaggio non c'è da me ci ritaglia la testa il topolino è crudele anche questa è crudele è crudele allora non si fa senza la mela senza nulla eh senza nulla vai quindi il topolino non si prende si e come si fa si va all'edicola e si compra cosa oggi siamo amici uno o due va bene